la sensazione senza video siamo tutti o quasi tutti questo è il pollo video e ragazzi saluto della caia no no bisogna un'altra un bel cinesi un piccone francesi un bel cinesi non le puoi anche cancellare non manca manca tutto 35 cm non così freddi la pizza si fredda questa sera però bisogna venderla assolutamente no devi fare lì no qua ci parlerà